Ad aprile calano i prezzi di olio di oliva e latte, è quanto rilevano Union Camere e i BMT. Tra gli oli e grassi è stata registrata una leggera diminuzione dello 0,8% per l'olio di oliva con il mercato italiano che ha risentito anche della revisione al rialzo delle stime sulla produzione spagnola e delle piogge registrate nella penisola iberica. I prezzi attuali rimangono comunque elevati, superiori del più 51% rispetto a un anno fa. Il settore ortofrutticolo è stato particolarmente condizionato dall'instabilità delle condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature primaverili nella prima parte del mese e successivamente da precipitazioni e calo delle temperature nella seconda parte. Tali circostanze hanno determinato un rallentamento delle produzioni ed un aumento dei prezzi di alcuni prodotti orticoli, tra cui le lattughe, più 5% rispetto a marzo, che si mantengono comunque inferiori del 30% rispetto allo scorso anno, le patate novelle di produzione siciliana e pugliese, le cipolle e i cavoli. Timido l'avvio di annata per i meloni, che mostrano valori inferiori del 7% su base mensile e quasi del 17% su base annua. Nel settore zootecnico è continuato ad aprile il calo per il latte spot, ossia il latte venduto sfuso in cisterna, che ha risentito anche di una maggiore produzione favorita dalle temperature fresche. In ribasso dell'1,7% rispetto al mese precedente le carni di bovino adulto, mentre sono aumentate del 2,1% i prezzi delle carni di pollo, grazie al buon andamento della domanda, favorita anche in questo caso dalle temperature ancora fresche di aprile. Sostanziale stabilità anche per i prezzi all'ingrosso di riso e dei derivati dei cereali.